Nonostante i limiti dell'avversario, una squadra che milita in C1, il Cagliari non è stato in grado in alcun momento di impensierire l'ordinato Lumezzane e alla fine è uscito dal campo a testa bassa tra i fischi delle poche centinaia di tifosi presenti sugli spalti. Falcidiato dalle assenze per infortunio a quelle di Grassadoni, a Lopez, Suazzo, Pinna, ieri si sono aggiunte anche quelle di Camarata poco prima dell'inizio della partita, di Dionisio e De Angelis nei primi minuti della gara. Il Cagliari però non può nascondersi dietro queste giustificazioni se vuole puntare alla promozione. La squadra rosso-blu soffre ancora troppo in tutti i reparti, manca di idee, di gioco e soprattutto del carattere giusto. Pecellino, letteralmente infuriato per il rendimento della squadra, oggi faccia a faccia tra il tecnico rosso-blu e i giocatori nel tentativo di rimettere insieme i coach in vista della difficile trasferta di Palermo. E' non escluso che sin dai prossimi giorni possano essere presi i provvedimenti nei confronti di qualche giocatore, così come non è escluso un intervento riparatore nel calcio-mercato. Non dico scusi ai tifosi, ma una prestazione del genere sicuramente non può aver soddisfatto i tifosi. Io sono l'allenatore, per cui sono il primo responsabile. Le responsabilità me le prendo tutte. Sicuramente questo non è il Cagliari che io voglio, è il Cagliari che dovrà esibirsi a Sant'Elia o in tutti i campi d'Italia. Abbiamo fatto una valutazione subito a fine partita col Presidente, con Matteoli, e per cui vedremo un attimino quali saranno i provvedimenti, se ce ne saranno, ma che dovranno essere adottati. Sicuramente questo non è il Cagliari che deve affrontare il campionato di Serie B. Chi non metterà in pratica quello che facciamo in allenamento sarà accantonato. Se qualcuno non ha la qualità di certi altri, si si aspetta che sopperisca la qualità con la determinazione e l'impegno. Io non voglio condannare nessuno, però ho avuto delle conferme che purtroppo erano dei miei dubbi. Ed è meglio avere queste conferme negative in questo momento del campionato dove si possa rintervenire sul mercato che vale tra tre o quattro mesi, continuando a illudersi su certe realtà. L'allenatore con molta correttezza ha voluto dare la possibilità a tutti di dimostrare che il passato è stato un errore, invece il passato non è stato un errore, ha confermato che non possono dare una disponibilità positiva alla causa, alla squadra. Grazie.